Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con il ritorno dei pronostici di Serie B Giornata numero 5, finalmente, e dico finalmente, è finita la sosta nazionale Si torna a parlare di calcio di Serie B Questo bellissimo campionato, come sempre, 5-6 partite da pronosticare Prima però di dirvi le partite vi dobbiamo chiedere un pollice in su qua sotto 30, 40, 50, 50 invece qua sotto per supportare anche questo format Un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando iscrivetevi che non vi costa nulla E noi partiamo subito, partiamo col dirvi quelle sono le partite che ho scelto Venezia-Spezia, Pisabari, ci facciamo ragazzi anche un bellissimo Catanzaro-Parma, big match assoluto Una reggiana cremonese che potrebbe essere un partito dalle mille insidie E chiuderei con un cosenza su Tirol che potrebbe anche essere un'altra partita interessante Non perdiamoci in chiacchiere, incominciamo subito Incominciamo da reggiana cremonese Gara molto bella tra due squadre in costruzione Che devono capire ancora magari determinati meccanismi di questa Serie B Soprattutto la reggiana che ha cambiato tanto, che non è promossa Che ha per l'appunto fatto tantissimi acquisti Così come la cremonese che deve trovare ancora una vera e propria identità Perché soprattutto ha avuto inizio il campionato non bellissimo Fatto di 5 punti in 4 partite Però prima che si arrivasse alla sosta nelle ultime due partite Ha fatto vedere cose interessanti La squadra di Ballardini Io credo che questa sosta possa aver fatto bene ad entrambe le squadre Il mio pronostico è un pareggio Quindi non vedo una favorita tra queste due squadre Perché la reggiana di Nesta gioca molto bene a calcio Deve registrare qualche movimento a livello difensivo Soprattutto di reparto Ma credo che possa essere una squadra che può dare fastidio a tante big Come la cremonese Che per me al Mapei Stadium non va oltre un pareggio Andiamo avanti con Pisabari Pisabari, partita bellissima Secondo me tra due squadre che proveranno a giocare a calcio Tra due squadre che hanno due tecnici Che comunque improntano le loro squadre Anche sul giocare a calcio Su avere il dominio del possesso Soprattutto il Pisa di Aquilani Quest'anno è una squadra che mi dà questo tipo di percezione Il Bari di Mignani è una squadra capace Bene a sbloccare le partite Ma deve cercare migliorare Nel gestire poi il vantaggio acquisito Durante l'arco di 90 minuti Mi aspetto una gara molto equilibrata Tra due squadre che proveranno a vincere entrambe Io credo che tutti e due abbiano bisogno di una vittoria Per dare un forte segnale al campionato Chi vince dà un segnale già forte Nonostante siamo solo la quinta giornata E ricordando che il Bari sia che ha giocato quattro partite Ma il Pisa non ha giocato tre E il Pisa ragazzi viene da due sconfitte consecutive E in casa proverà a fare bottino piano Infatti vi dico uno tra Pisa e Bari Andiamo avanti con Cosenza su Tirol Ritornando un attimo su Pisa Bari Occhio al Bari che potrebbe fare anche bottino piano in trasferta Ma voglio dare fiducia tanto al Pisa di Aquilani Cosenza su Tirol È una gara da non sottovalutare per il su Tirol Anche se affronto un Cosenza che in questo momento Non viaggia benissimo Perché ha fatto due sconfitte consecutive Nelle ultime due giornate Si è un po' perso rispetto all'ottimo inizio del campionato Fatto di quattro punti in due partite Però al San Vito Marulle Mi aspetto un Cosenza rabbioso, cattivo Che proverà a fare la partita La farà la partita Perché il su Tirol è una squadra Che ti lascia anche il pollino del gioco E quest'anno il Cosenza di Caserta È una squadra capace di gestire il possesso palla Vedremo chi riuscirà a sfruttare meglio Le occasioni che verranno create da una parte all'altra Vincerà la partita Mi aspetto una gara con pochi gol Mi aspetto tantissimi gol Il mio pronostico è un X2 O pareggio O vittoria del su Tirol Perché do così tanta fiducia su Tirol Perché ragazzi è una squadra imprevedibile Una squadra allenata bene Una squadra che può fare risultato su ogni campo Chiudiamo con le ultime due partite Venezia-Spezia e Catanzaro-Parma Andiamo su Catanzaro-Parma Ragazzi Catanzaro-Parma è una gara Una gara bellissima Io non vedo l'ora di vedere domenico Alle 16.15 Questa gara tra le due capoliste Tra le due squadre che hanno 10 punti Tra le due squadre che giocano un buon calcio Soprattutto il Catanzaro di Vivarini Che nonostante se non è neopromossa Non ha perso Anzi ha solo rafforzato la sua identità Che aveva fatto vedere l'anno scorso in Lega Pro Raccogliendo 96 punti nel giro nel C Un Catanzaro che gioca a memoria Un Catanzaro che non ha paura di dominare il possesso Contro nessuna squadra Che non ha paura di mettere in campo le proprie carte Per questo che secondo me Alceravo il Catanzaro Può fare la partita perfetta Anche se di fronte a una squadra Che è tecnicamente più forte Che come tipo di giocatori Sono anche magari più esperti Già per reggere una minima pressione Per questo tipo di partite Il mio pronostico è un X Ma se vi devo dire Chi secondo me può vincere questa gara Occhio a non sottovalutare la vittoria del Catanzaro Però vi dico una cosa Se il Parma vince a Catanzaro Per me il Parma diventa la favorita numero uno Per questo campionato Andiamo avanti con l'ultima gara Venezia-Spezia Uno del Venezia Anche se lo Spezia ragazzi Viene da tre sconfitte consecutive Viene da un punto No da due sconfitte consecutive Scusatemi da un punto in tre partite Quindi ha bisogno di risultato Ma occhio al Venezia di Manoli Con una squadra forte Più avanti nel percorso Rispetto a quella di Alvini Più forte magari anche nel momento Anche più in fiducia Ed è per questo che al Penzio Mi aspetto una vittoria Post-sosta da parte Della squadra di Manoli Che potremmo dare a quota 11 punti E rimanere aggrappata A Catanzaro e Parma Fatemi sapere la vostra Qui sotto con un commento Poi se non so il video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi